Bentrovati, bentrovati ad un nuovo video tutorial firmato FabioAmbrosi.it Continuiamo a parlare di After Effects, continuiamo a parlare di espressioni, continuiamo a parlare di conto alla rovescia, countdown, come creare un conto alla rovescia utilizzando la potenza appunto delle espressioni di After Effects. Questo è il terzo video, quindi se avete perso i passaggi per arrivare fin qui vi consiglio di tornare un pochettino indietro e di recuperare le ultime clip, gli ultimi video in cui abbiamo visto appunto come scrivere le espressioni per controllare il nostro conto alla rovescia e soprattutto abbiamo visto come aggiungere un controllo nel nostro pannello controllo effetti per decidere il punto di partenza del nostro countdown, quindi se vogliamo partire da 20 possiamo inserire il numero qui nel nostro pannello controllo effetti, se volessimo partire da 100 il discorso non cambia ma se volessimo fare un countdown molto breve come faremo quest'oggi possiamo inserire un 5 e il nostro countdown sarà veloce, semplice e indolore, ok? Abbiamo inoltre cambiato il colore del nostro numero virandolo per esempio su un rosso ma il colore abbiamo visto che è qualcosa che possiamo scegliere noi tranquillamente con le nostre espressioni. Cosa faremo quest'oggi? Beh oggi andiamo un po' avanti e in realtà la lezione di quest'oggi è molto semplice, paragonata alla precedente in cui ci siamo incartati con le espressioni per creare questa animazione, ok? Quello che faremo quest'oggi è rendere il tutto leggermente più elegante non troppo ma un pochettino. Per esempio aggiungiamo un bordo al nostro numero facciamo in modo che questo bordo poi ovviamente quando il countdown termina cambi si inverta con il colore di riempimento. Per capirci qui il colore di riempimento è bianco e il bordo è rosso. Al termine del countdown vogliamo che il riempimento sia rosso e questo l'abbiamo già fatto e il bordo diventi bianco. Inoltre parleremo di un effetto molto utile in After Effects che è l'effetto esplosione. Perché? Cosa faremo? Faremo in modo che il nostro countdown quando arriva al suo termine ovviamente vada in mille pezzi, ok? Utilizziamo questo effetto perché credo che sia un effetto a prescindere molto utile da conoscere. Quindi io vi invito a poi sperimentarlo perché può essere utilizzato in tanti modi. Oggi lo utilizzeremo per mandare in frantumi un numero però se per esempio state simulando un vetro che si rompe ecco l'effetto che stiamo per vedere quest'oggi, l'effetto esplosione, fa al caso vostro. Ovviamente controlleremo tutto con le espressioni perché di quello stiamo parlando. Quindi senza perdere troppo tempo iniziamo. Eravamo rimasti qui con le nostre espressioni ma quello che stiamo per fare adesso non ha nulla a che fare con le espressioni. Vogliamo semplicemente aggiungere un bordo al nostro numero. Come si aggiunge un bordo colorato a un numero? Beh ovviamente selezioniamo il livello testo, andiamo nel pannello che controlla le proprietà del carattere, clicchiamo sul secondo colore, questo è il primo colore, è il colore di riempimento, andiamo sul secondo colore e scegliamo un colore a nostra scelta per esempio rosso e ovviamente diamo un po' di pixel al nostro bordo. Invece che uno aumentiamo e diamo un valore a nostra scelta. In questo caso il nostro numero diventa bordato di rosso. Quello che noi vogliamo fare in altre parole è far sì che il nostro countdown una volta che il numero arriva a zero mi mostri il bordo bianco. Quindi dobbiamo modificare il colore del bordo in base al nostro countdown. Per prima cosa voglio ingrandire un po' questo numero altrimenti diventiamo matti. Quindi ingrandiamo un pochettino, riallineiamo il nostro numero. Ok così possiamo tenere d'occhio quello che accade. Vediamo adesso come animare appunto il nostro bordo. Vi ho detto nella lezione precedente che quando vogliamo animare una proprietà del livello testo e questa proprietà non è elencata nelle varie proprietà del livello stesso dobbiamo utilizzare gli animatori. Ve lo ricordate abbiamo utilizzato l'animatore per esempio per controllare il riempimento del nostro testo. Riempimento. Ok. Noi quello che faremo quest'oggi è aggiungere un secondo animatore per controllare invece il bordo o meglio il colore del bordo del nostro del nostro testo. Quindi come vi ho insegnato selezioniamo prima la proprietà testo. È importante perché se abbiamo selezionato per esempio la proprietà riempimento aggiungeremo un animatore sul riempimento. È una cosa un po' contorta che vedremo meglio in un tutorial futuro. Per il momento assicuratevi di selezionare il livello testo. Clicchiamo su animatore anche se non si vede qui c'è scritto animatore e andiamo a selezionare quale proprietà. Ovviamente il colore del tratto. Ok. In After Effects il bordo viene chiamato anche tratto in questo caso. Ovviamente aggiungiamo una proprietà come abbiamo fatto per il riempimento RGB ovvero red, green e blu. Clicchiamo senza preoccuparci troppo e come potete vedere è stata aggiunta una nuova proprietà o meglio un nuovo animatore. Eccolo qua. Lo rinominiamo per esempio colore bordo. È a nostra scelta quello che scriviamo ok. Serve solo per tener traccia di quello che stiamo facendo e ovviamente dobbiamo aggiungere un'espressione al nostro colore tratto. Ok. Quindi alt clic sul cronometrino e aggiungiamo un'espressione. O quale espressione utilizziamo per controllare il colore del bordo. Se avete eseguito gli altri tutorial, gli altri video avete già la risposta. Quello che dobbiamo fare sostanzialmente è cambiare un colore quando arriviamo alla fine del countdown. E se ci pensate bene lo abbiamo già fatto. Lo abbiamo già fatto quando abbiamo controllato il colore di riempimento del nostro del nostro numero che quando arrivava a zero diventava rosso altrimenti era bianco. Quindi è inutile perdere troppo tempo a scrivere espressioni. Selezioniamo l'espressione che abbiamo già utilizzato per il colore riempimento del nostro carattere. Selezioniamo l'espressione che in questo caso possiamo cancellare perché non ci serve quella predefinita. La incolliamo ovviamente e dobbiamo modificarla un attimino. Perché dobbiamo modificarla? Perché vogliamo fare in modo che quando il nostro countdown è minore o uguale a zero il colore del nostro del nostro testo il del nostro bordo sia bianco in caso contrario sia rosso. E se guardate ricordate questo è un valore RGB e con il canale alfa in coda dobbiamo invertire questi due valori. Quindi quando il countdown è minore o uguale a zero noi vogliamo un colore bianco al nostro bordo. Quindi 255 255 255. Diversamente vogliamo che il nostro bordo sia rosso quindi 255 0 255. Vado veloce perché questa cosa l'abbiamo già vista non perché voglio fare non perché non voglio spiegarlo ulteriormente però se funziona quanto abbiamo fatto e non vedo errori quando arriviamo a zero il colore del bordo dovrebbe dovrebbe diventare bianco e infatti è così ok ripeto se non è chiaro quello che ho fatto qui tornate indietro di un video e recuperate quanto abbiamo fatto con il colore del riempimento perché è la stessa identica cosa ovviamente a colori invertiti. Ora preoccupiamoci di far esplodere il nostro numero con l'effetto esplosione. Prima però voglio creare uno sfondo molto rapidamente quindi tinta unita sfondo anche qui vado abbastanza veloce perché sapete come si crea un livello a tinta unita. Quello che però non abbiamo mai visto è come creare una rampa di colori no per creare uno sfondo che non sia omogeneo. Beh cliccando con il tasto destro del mouse sul pannello controllo effetti scegliete la voce genera e ancora andate a cercare la voce scala sfumatura ok scala sfumatura ci permette di applicare una sfumatura di colore al nostro livello tinta che abbiamo creato ok sovrascrivendo ovviamente il colore del solido che avevamo generato modifichiamo questo effetto a nostro piacimento ora io anche qui vado abbastanza velocemente prima però chiaramente piuttosto che una scala lineare voglio utilizzare una sfumatura radiale o spettro radiale come viene chiamato qui in altre parole voglio creare un qualcosa simile a questo e voglio spostare il centro del mio cerchio in alto a sinistra in maniera da avere una sfumatura che parte dall'angolo superiore sinistro e vada poi a modificarsi dall'alto verso in basso da sinistra verso destra modifico ovviamente i colori quello che sto facendo ovviamente è discutibile nel senso che è totalmente a vostro gusto potete dare uno sfondo a questa uno sfondo a vostro piacimento senza nessuna pretesa chiaramente il livello sfondo devo portarlo sullo sfondo ok quindi in basso in maniera tale da mostrare ed avere il nostro numero dicevo voglio applicare l'effetto esplosione a questo numero come fare beh seleziono ovviamente intanto il mio livello testo tasto destro del mouse sopra il pannello controllo effetti individuo la voce simulazione e nel menu simulazione individuo la voce esplosione cosa fa l'esplosione esplosione esplode bam non vi preoccupate se vedete questa griglia di mattoncini è normale è un effetto questo che richiede più risorse al vostro computer quindi per fare prove e per settare il vostro effetto è intelligente questa scelta di chi ha sviluppato l'effetto stesso di mostrare di default come rendering questa griglia ovviamente questo comportamento può essere modificato nelle impostazioni di questo effetto scegliendo modificando la proprietà visualizza e scegliendo la voce con rendering piuttosto che reticolo più forze ora non entriamo nel dettaglio di cosa fa questo effetto ma se mandiamo in play potete vedere che il nostro effetto va a distruggere il nostro livello in mille in mille pezzettini o ovviamente torniamo nella modalità reticolo potete modificare la forma per esempio dei nostri dei frammenti del nostro del nostro numero di default sono selezionati mattoni come come forma geometrica di rottura per capirci però per esempio se scegliete la voce vetro vedete che cambia tutto il layout dell'esplosione stessa potete impostare un numero maggiore di frammenti qui è settato di default 10 ma potrei portare un valore altissimo tipo 150 fate attenzione 150 è un valore alto vuol dire che avremo un effetto molto bello perché vedremo un numero proprio disintegrarsi ma il vostro computer faticherà tantissimo a lavorare quindi l'idea è inizialmente partite bassi poi se vi piace quello che state facendo potete alzare ma solo quando siete sicuri di quello che state facendo altrimenti perdete tempo ok c'è un problema con questo effetto che parte al primo frame cioè in altre parole appena il nostro countdown inizia va subito in mille pezzi ovviamente non è quello che noi che noi vogliamo vogliamo poter controllare il il modo o meglio più che il modo il momento in cui questo nostro countdown va a rompersi mille pezzettini come fare allora spieghiamo rapidamente come funziona questo effetto questo è un effetto appunto di esplosione abbiamo dato scelto la forma abbiamo scelto le ripetizioni quindi il numero di frammenti possiamo scegliere tante altre cose ma quello che ci interessa è la forza numero 1 la forza numero 1 è la forza che viene applicata di default a questa esplosione in particolar modo il raggio se il raggio è 0 non c'è rottura se il raggio è 10 c'è una rottura di un valore di 10 unità se questo valore è a 0 non accade nulla quando questo valore aumenta inizia l'esplosione quindi è questa la proprietà che dobbiamo modificare con un'espressione per accenderla per fare in modo che si accenda che si attivi nel momento giusto come fare per controllare questa proprietà e accenderla nel momento giusto beh la risposta è molto semplice utilizzando le nostre espressioni e se ragionate un secondo con me non sono espressioni particolarmente nuovo particolarmente nuove o difficili le abbiamo già utilizzate dobbiamo utilizzare nuovamente l'espressione che abbiamo utilizzato prima per il colore solo che invece di modificare il colore diamo un valore a questo raggio è chiaro quindi facciamo una cosa recuperiamo intanto e copiamoci l'espressione che abbiamo usato per il bordo copiamola senza problemi la riutilizzeremo praticamente in maniera identica ok a questo punto però chiudiamo la proprietà testo cerchiamo l'effetto esplosione cerchiamo la forza numero uno e cerchiamo la proprietà raggio tasto con clicchiamo con il alt sulla tastiera scusate e clicchiamo con il tasto sinistro del mouse quindi alt più tasto sinistro del mouse per aggiungere l'espressione incolliamo l'espressione che abbiamo appena copiato dal nostro colore è identica c'è solo una grandissima differenza che quando il countdown è minore o uguale a zero vogliamo che venga restituito un valore preciso per il nostro raggio per esempio 0.4 altrimenti se il nostro countdown è ancora non è arrivato a 0 il raggio lo teniamo a 0 ok ripeto tornati indietro di un video tutorial di due video tutorial per capire quanto qui stiamo facendo ma dovrebbe essere abbastanza semplice ok se non ho commesso errori non dovrei avere warning di alcun tipo ancora non visualizziamo il nostro numero perché ripeto vogliamo prima vedere se funziona correttamente il nostro countdown è di 5 secondi ma andiamo in play teoricamente al quinto secondo dovrebbe iniziare la rottura ed è così ok a questo punto possiamo quindi modificare il rendering il tipo di rendering portarlo con rendering per appunto e dovremmo vedere il nostro testo andare in frantumi dopo cinque secondi vedete quello che vi stavo dicendo chiaramente nel momento in cui renderizziamo il nostro numero il tempo che occorre al computer per fare tutti i calcoli è maggiore e questo tempo sarà ancora maggiore se aumentiamo i frammenti quindi occhio ok a quello che fate fate le prove prima e poi fantastico è così c'è un piccolo problema però non facciamo in tempo a vedere lo zero perché appena arriva a zero giustamente si innesta la nostra esplosione e non è quello che vogliamo vogliamo ritardarla un pochettino come possiamo fare ragionate qui è solo matematica è solo logica non c'è niente di after effect in realtà è nemmeno tanto di programmazione solo logica noi abbiamo detto che il nostro raggio deve attivarsi quindi deve essere impostato su un valore di 0.4 quando il countdown è il valore del countdown ricordo calcolato da un'espressione che abbiamo visto già in passato è minore o uguale a zero ma io potrei decidere di attivare l'esplosione quando il countdown è minore o uguale a meno 1 per esempio quindi passato un secondo dal termine del countdown si innesta il countdown stesso facciamo una prova quindi 1 è inutile che ricalcoliamo tutto 0 non accade nulla dopo un secondo in linea teorica eccolo qua si innesta l'esplosione ok se avete capito quello che abbiamo visto nei video passati quello che abbiamo fatto oggi è molto semplice ok chiaramente se non avete mai utilizzato le espressioni e non avete mai visto non avete seguito i tutorial precedenti non credo che oggi abbiate capito troppo ad ogni modo se avete dubbi commentate questo video ovviamente condividete questi tutorial con i vostri amici passate parola raccontate quello che vedete su questo canale a chi ovviamente è interessato iscrivetevi a questo canale youtube mettete like su facebook c'è la pagina fabio ambrosi venite cercatemi lì tutte le news che mi riguardano e che riguardano ovviamente questi tutorial e infine chiaramente il sito internet www.fabioambrosi.it lì troverete oltre a notizie varie di media e tecnologia anche i tutorial scritti per il momento vi ringrazio buon proseguimento grazie per avermi seguito commentate e ciao